Questo è stato un primo momento, abbiamo chiamato alcuni di questi uomini, poi ci sarà un momento anche ufficiale, però ci sembrava doveroso ringraziarli perché hanno rappresentato il senso di volontariato, la volontà di aiutare di tutto il popolo trentino. In quei giorni c'era un forte orgoglio da parte del popolo trentino verso la missione fatta dai nostri uomini di Trento e anche di Bolzano della protezione civile. Sicuramente sono nati delle interlocuzioni e dei rapporti che possono essere utili pro futuro.